Con 39 consiglieri presenti su 48 si è aperta la seduta di Consiglio Comunale per l'approvazione del rendiconto di bilancio 2011, la ricognizione dei debiti fuori bilancio e l'assestamento di bilancio. Dovrà inoltre essere votata dal Consiglio Comunale l'ipotesi di adesione del Comune di Napoli al cosiddetto decreto salva comuni, per il quale proprio ieri è stato approvato dalla Commissione Bilancio del Senato l'emendamento più volte richiesto dal Sindaco De Magistris che porterebbe, se approvato dall'Aula in lettura definitiva, a 300 milioni il contributo per il Comune di Napoli e a 10 anni il termine richiesto per la restituzione. L'intera seduta di Consiglio potrà essere seguita in diretta via streaming sul sito www.comune.napoli.it grazie alle riprese del personale dell'ufficio stampa.